Pestum nella top 30 delle mete più visitate in Italia e quanto emerge dalla classifica del MIBAC sui turisti censiti nel 2018. Il sito di Pestum risulta al sedicesimo posto con 427.339 visitatori, in calo del 3% rispetto al 2017. Restando nella provincia di Salerno, buona performance del Museo Archeologico di Ponte Cagnano, che ha registrato un più 7,88%, bene anche Padula con un più 2% e San Pietro a Corte e a Salerno con un più 3,73%. In calo l'area archeologica di Velia, che ha registrato un meno 7% di visitatori rispetto al 2017.